allora visto che iniziamo da terra facciamo tutto da terra anche il riscaldamento ci mettiamo qui e iniziamo a pedalare iniziamo a pedalare pian pianino e ci scaldiamo mi vedete tutta intera tanto tanto non sto in piedi quindi non mi vedete con la testa mozzata 2 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 3 2 e 1 continuiamo a pedalare ma questa volta a terra distese 1 2 3 4 schiena bene aderente al terreno 1 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 e 1 ancora su 1 2 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 3 e 1 ancora su 2 e 1 stop ci sediamo ci mettiamo il ginocchio in verità da qui scendo salgo scendo salgo dai dai che ci scaldiamo su e su 3 potete anche togliere le scarpe la pinz Spirite che batteremo il ginocchio in verità 4 4 5 6 7 são... guided. 7 7 e самое stor being l'ultimo a otto, prendiamo il pesetto, e facciamo la stessa cosa, ma solo da una parte, su, due, qui, tre, è più facile, quattro, cinque, è facilissimo, sei, sette, otto, ancora, per i fianchi, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, sento la tiziana, e uno, cambio parte, tre, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, otto, sette, tre, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno, tutte e due, destra, sinistra, e otto, su, due, solo otto, e tre, su, quattro, cinque, sei, sette, gli ultimi due, otto, e stop. Allora, ci sediamo da qui, semplicemente, prendendo un pesetto, lo faccio passare, sotto, sotto, qui, due, qui, tre, qui, quattro, e cinque, sei, sette, otto, ancora otto, sette, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ne facciamo ancora sedici, che divertente, ma sì, o due, tre, tre, quattro, cinque, sei, schiena bella dritta, sette, otto, ancora otto, sette, sei, cinque, cinque, quattro, tre, due, e uno, stop. Ora, avete un termosifone, un armadio, qualsiasi cosa da metterci sotto i piedi? qualsiasi cosa da infilarci sotto i piedini, che fa molto male, da qui, addominali completi, se vi fa molto male, come fa molto male a me, mettete qualcosa sotto, perché io sono scalza, ok, addominali completi, ne facciamo sedici, vai, aiutatevi pure con le braccia, è un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, tenete la discesa, due, e uno, stop. Ritorniamo seduti, e ci prendiamo il pesetto, ora facciamo finta di andare in barca, quindi, primo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, otto, sette, tre, sei, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno, ora canoa, incrocio solo da una parte, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dall'altra parte, otto, sette, sei, cinque, quattro, quattro, tre, due, e si incrocia, destra e sinistra, on, e due, qui, tre, tre, quattro, cinque, sei, sette, l'ultimo, otto, e otto, stop. Ora, vi ricordate quello che abbiamo fatto l'altra volta nel Tabata, che alla fine ho scoperto che senza tappetino, scivolando, si faceva meno fatica, lo rifacciamo, perché mi piace da morire. Allora, da qui, cosa succede? Ci alziamo, salgo, scendo e torno, spingo su e torno, uno, uno, e due, tre, quattro, cinque, sei, sette, l'ultimo, otto, e si torna indietro. Ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Stop! Riprendiamo il nostro tappetino. Ed ora! da qui, bear squat, cammino, 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 torno, 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 ok? Andate in ritorno, da bear squat, in appoggio sugli avambracci, avanti e indietro, ok? qui, vai! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1 2 3 stop 1 2 3 5 1 2 3 qui 1 2 3 6 1 2 3 qui 1 2 3 7 1 2 3 qui 1 2 3 stop e allungo ora ci sediamo all'amazzone è troppo alta la musica seduti all'amazzone da qui cosa facciamo? su push up su 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 e 1 che dolore cambio parte 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 5 4 3 e 1 che dolore cambio parte 3, 2 e 1, stop, allungo.